Buonasera e benvenuti a una nuova edizione di Traki News, ospiti di questa sera in studio Carlotto Brambilla, direttore di trasporto commerciale, ben ritrovato. Grazie Pamela, naturalmente buonasera a tutti. Allora, dopo il salone di Annovera al quale abbiamo già dedicato precedentemente diverse puntate, oggi ci concentriamo sulle sinergie nella realizzazione di veicoli commerciali. Per quale ragione si creano queste sinergie, Carlo? Le sinergie ovviamente si creano per ragioni di costi, costi nella progettazione e direi anche costi nella realizzazione dell'impianto, perché non bisogna dimenticare che progettare un veicolo sulla carta è una cosa, poi però bisogna anche produrlo. I veicoli commerciali, soprattutto quelli più grandi, hanno degli stampi e delle catene di montaggio che non sono quelle automobilistiche, hanno una dimensione enorme. Quindi bisogna fare dei numeri per poter ammortizzare questi impianti, soprattutto anche la lavorazione degli stampi che sono costosissimi e questo fa sì che soprattutto per i veicoli più grandi i costruttori si associino e lavorino insieme. Ecco, per quale ragione si creano queste sinergie? Come dicevo ci sono gli stampi, c'è la catena di montaggio e poi però c'è anche dell'altro. Ci sono mercati dove ad esempio il costruttore A è molto più forte e il costruttore B lo è molto meno, allora si decide di condividere un veicolo. A volte capita al contrario, a volte si compete sullo stesso mercato, a volte questi mercati sono in continenti diversi dove veramente i marchi addirittura cambiano e diventano marchi locali. Quindi ci sono ragioni molto diverse dalla tecnica pure semplice, ci sono anche ragioni commerciali, ragioni di budget e così via. È tutto l'insieme dell'industria automotive. Ma comunque queste sinergie si creano solo per furgoni grandi o anche per quelli piccoli? No, si creano anche per quelli piccoli, anzi forse si creano di più per quelli piccoli, perché il furgone piccolo, bene o male, è come un'automobile, ha la stessa struttura, ha la motorizzazione automobilistica, ha magari due varianti di passo, tre ipotizziamo, un paio di varianti di altezza, ha ovviamente una versione passeggeri, quindi è un'automobile da certi punti di vista, viene anche immatricolato M1, oltre che N1, e quindi la sinergia è importante, anche perché di questi veicoli non se ne riescono a produrre centinaia e centinaia di migliaia, come si fa per un'utilitaria qualunque, perché in fondo si tratta di un'utilitaria. I numeri sono quelli di una miraglia, di una miraglia che costa 100.000 euro, però i margini su una vettura da 100.000 euro sono molto diversi di quelli da un mini furgone da 10.000 euro, e questo è chiaro che spinge, fa sì che i costruttori vengano spinti a collaborare tra di loro, a realizzare o un progetto in comune, o direttamente a comprare il veicolo da un concorrente con quella che si chiama un'operazione di re-badging, ovvero rimarchiandolo. Ecco, invece da un punto di vista dell'assistenza, visto che sono comunque molto simili, sono assistiti dalla stessa rete? Ebbè, qui è veramente, come si dice, dove casca l'asino. L'assistenza è molto diversa, perché dipende se uno ha una rete specializzata per veicoli commerciali o no. Addirittura molti commerciali sono venduti dalle reti di veicoli industriali, e quindi sono assistiti con i programmi delle reti di veicoli industriali, che assistono giorno e notte, 24 ore su 24, c'è il cosiddetto depannage sull'autostrada, uno si ferma, vengono, ti assistono, finché il veicolo non si rimette in moto. Questo naturalmente non capita se si compra un veicolo, diciamo, da un concessionario qualunque che vende solitamente auto e magari vende un veicolo commerciale. Però c'è da dire che anche i prezzi in questo caso sono diversi. Quelli venduti dalle reti veicoli industriali costano magari un pochettino di più. E questo pochettino di più è dovuto all'assistenza tecnica. E quindi sta al cliente capire dove gli convenga comprare il veicolo, che poi magari è molto simile, non sempre, perché a volte ci sono dei particolari diversi, se non addirittura in certi casi uguale. A proposito di prezzi, come si distinguono tra di loro? Beh, si distinguono in modo molto difficile, perché è chiaro che a quel punto le case non hanno interesse a far capire quale sia il prezzo reale. Adesso non voglio fare nomi, perché sarebbe sbagliato. Però ci sono proprio delle operazioni di marketing dove una serie di accessori sono di serie, un'altra serie di accessori sono richiesta, ci sono delle motorizzazioni che sono leggermente diverse, magari in taratura, ci sono altri che invece hanno proprio motorizzazioni diverse. E allora i prezzi cambiano. Cambiano poi le garanzie, c'è chi offre il classico anno previsto per le partite IVA, chi 2, chi 3, chi 5. Insomma, c'è un po' di tutto. E qui è molto difficile capire veramente come fare, dove comprare, a che prezzo. E poi naturalmente c'è anche il discorso del prezzo piazzale, che è una cosa molto importante, che nei veicoli commerciali c'è ancora. Il classico veicolo di lunghezza media, altezza media, situato sul piazzale, di solito bianco, costa veramente spesso molto, molto meno, anche se è un veicolo introdotto da poco. Abbiamo dato quindi comunque delle indicazioni importanti. Ecco, invece come cambieranno le alleanze nei prossimi anni? Ma le alleanze sono già cambiate, perché sappiamo che PSA, ovvero il gruppo Peugeot Citroën, è andato a costruire minivan per ora, piccoli furgoni, con Toyota, e abbandonando il gruppo Fiat. Il gruppo Fiat ha questa alleanza ancora con PSA, che scade tra 2018 e 2019 per la costruzione del Ducato. E bisognerà che si trovi un altro alleato. Poi ci sono altre situazioni, ad esempio Volkswagen faceva costruire i propri veicoli alla Daimler insieme allo Sprinter. Ma per tornare indietro ci sono poi tantissime situazioni dove parti del veicolo vengono vendute tra un costruttore e l'altro. Ne vorrei sottolineare una che non svegliamo nessun mistero, e poi è anche una collaborazione che non esiste più, quindi mai tanto per far capire. Dato che il gruppo Renault aveva nel segmento dei veicoli commerciali, oltre le 3,5 tonnellate, numeri molto piccoli, non conveniva realizzare una cabina apposta, per cui gran parte della struttura della cabina veniva direttamente acquistata dall'Iveco, ed era quella del Daily con l'anello porta e il veicolo Renault era il mascot. Ecco, ma c'è anche qualcuno che ha deciso di uscire da una collaborazione per proseguire per conto proprio, no? Sì, è Volkswagen con il nuovo Crafter che è presentato in questi giorni, già visto all'IAA, è un veicolo completamente nuovo, a gamma completa, e vedremo come va. Il punto di forza è naturalmente la vendita, in questo caso attraverso la rete Volkswagen, la rete MAN, e in molti paesi anche attraverso la rete Scania. Ovviamente alla fine quello che conta è l'utente, e l'utente in questo caso ha dei vantaggi oppure no? Ha dei vantaggi perché attraverso le collaborazioni gode, diciamo così, di tutte le versioni possibili, anche se questi sono in numeri molto piccoli, e quindi può avere un veicolo su misura. Perfetto, allora io ringrazio Carlotto Brambilla per essere stato con noi. Arrivederci, grazie.